13 donne e 11 uomini per un totale di 24 candidati al Consiglio Comunale. È il contributo che la lista civica in comune dà alla coalizione di centro-sinistra e alla elezione di Cristian Fanesi candidato sindaco. La presentazione di tutti i componenti è stata effettuata nel locale Lucelin Belverde del Centro Storico di Fano. In comune è la prima forza politica che presenta la sua lista della coalizione che sostiene l'elezione di Fanesi con una novità. Nel suo simbolo infatti appare il nome di Samuele Amascarin, una forza d'attrazione che nelle primarie, solo per tre voti, non ha preso il posto di Fanesi. Rinnovata dunque la collaborazione con il Partito Democratico e le altre forze del centro-sinistra, anche se in comune non rinuncia a quelle posizioni che nella tornata amministrativa che volge al termine ha assunto non poche decisioni singolari. Nella lista non appare il nome di Carla Luzzi, che dopo dieci anni ha rinunciato volontariamente a ricandidarsi. Vi si notano otto conferme e sedici nuove candidature, tra cui anche espressioni che si pongono in più netta alternativa al razzismo, alla xenofobia, al popolismo e ai rigurgiti del fascismo e delle nuove destre. Così Mascarin, seguito poi dall'intervento di Fanesi, ha presentato la sua lista. La lista che nasce in comune con Mascarin vuole in qualche modo coniugare quella che è stata l'esperienza di in comune, quindi del municipalismo democratico e di sinistra, con quella che è stata la grande mobilitazione che in questi mesi ha attraversato la nostra città per le primarie e non solo per un candidato Mascarin, ma anche per un'idea di politica fatta di partecipazione, di trasparenza, di impegno, che ha dato anche dei risultati molto importanti. Oggi siamo lealmente dentro il centro-sinistra, a sostegno del candidato sindaco Cristian Fanesi e questa mattina presentiamo una lista di 24 candidate e candidati, 13 donne, 11 uomini, rappresentativa non solo di quello che è stato per l'appunto questo lungo percorso di partecipazione democratica, ma anche della pluralità della nostra città. Donne, uomini, ragazze e ragazzi con profili, background, storie, che raccontano non solo l'affano di oggi, ma l'affano che vogliamo per domani. Una città che sia aperta, inclusiva, europea, solidale e pensiamo di poter fare la differenza nel centro-sinistra alla sfida elettorale contro la destra. Cristian Fanesi, l'apporto di Incomune, un apporto importante dunque che evidenzia come parte della sinistra aderisce al progetto che lei ha realizzato per le prossime elezioni amministrative. Sì, siamo molto contenti, oggi è una bella giornata per la città, si presenta la prima lista che è collegata a questa coalizione, la mia candidatura sindaco, ce ne saranno altre quattro e soprattutto questa lista rappresenta dei mondi e dà rappresentanza dei mondi molto importanti per il centro-sinistra e per questa città. Dunque oggi è una bellissima giornata, vedrete che alla fine siamo una somma di persone, un gruppo di persone, una somma di qualità ed esperienza che è pronta a contrapporsi invece come gruppo a una destra e a un candidato sindaco di destra e quindi sarà una bella battaglia intensa anche nei tempi dove il centro-sinistra prevarrà e dove insieme potremo costruire una città nuova, più bella, più accogliente perché noi abbiamo una visione, sappiamo dove andare e sappiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi.